MOSTACIOLI, MOSTACIOLI DI ORISTANO, MILAN QUELLA VEFA, CHE SI E FATTA A MANO, ME A BÒ, MI CANTO NI VOI, GIUSTO, PARA PRIMA MANO ME, CENTO QUARANTA, I FORAMARI, VAI ZITA, SI TORRI DA BÒ DI MEZZUDITI FACCIO I SALDI, SCARPE BELLE, L'IDEALE SAREBBE, TORO DA AVANTE E VERGINE DI DIA TRO, COMPRESI URAI, MA ALLORA PERCHÉ MI USE TO IL CONTRARIO A ME, E FIGLIORE A GARA, LE STELLE SONO TANTE, MILIONI DI MILIONI, VIGILE MI COGLIONI, E TE SURABIDI, E SABATO CI SONO LE SELEZIONI, LASCALO FARE, FACCIO UNA SOLUZIONI, VOI A MA IN DEDE DROPPI FISCIO, COT'I CREDO, UN TRONISTA, VIGI SE UN TRONISTA, VIGI SE UN TRONISTA, VIGILE MI, LASCALO STARE, GAVI, DIRETTAMENTE A PEDI DA MILIS, ABBIAMO IL MANDARINO RUGGERO PISTIS, CHE NE HA PORTATO ROBBA DI UCCELLI PER SIGNORA PRESI A VISCIO, ASCUSI, CHEU, 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 CHEU! SCUSI IL RITARDO, MA STAVO FACCENDO GLI ANALISI PER LA DIABETTE, EH, GIÀ NOÊ Niente, TE, BÁCII MI RUSSI! A ME PIACCI NO VERO! Sennò ho visto i traumi buruzianghi. Musi, 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 musi! Beh, voglio preparare un magnotto, altro che chi ti cazzo. Questo è una rarità a me, l'arte di brava sola. Dai, dimmi cosa è successo a chi mi ha scelto una rita. Oii, che non ho voglia di arrettare a Levi? Cos'è successo? Ho capito? Lo sono? Sì, siamo drummiti e ne siamo usciti in occhi. Gatta, Bubo! Mamma gatta sei! E io? Mamma nostra è? Cosa? Mi non fai un occhio! Io sono Faustino! E io Denise! E non vi lo vedi in giro? Non ti puoi passare! Se mi pari alla bozza di Andrea Luvino! Non ti puoi passare! Se ti vedi l'abbramito! Tu sei il beto che è ruggito! Fai i rabbini che non hai detto! Rossi, dai, nauti e ruggito! Ti ti fei qui! Arrasa! Sfazio! E accaccia! Capta che gatto te ne fai! E ahhh... Pugliavo con me, ma... Venga, taccio maledetto, tu finisci il ristorante sotto la voce coniglio. Ci apre ora l'inaugurazione il nostro magnifico, grandioso e insuperabile, santissimo e massimo rettore Cimbranelli. Integra, stai. È un piacere raccogliervi qui, tra le prestigiose mura e antiche di quest'aula magna magna, sono direnicamente onorato di dare il varo a questo prestigioso consesso, masci, femmini e talia. Un ringraziamento particolare alle aziende che hanno fornito il nostro prezioso abbigliamento, la pellicceria Cuccu per le mantelline di tana di muro albina, la ditta Io Bimbo Vintage per i quanto mai rari bavaglini di pizzo. Conviene a lasciarcelo che dopo c'è la pasta scelta, è subito. Non possiamo non fare un cenno alla vexata questio dei cervelli in figa. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.